Ieri mattina la Guardia Costiera di Salerno ha prestato soccorso a quattro persone a bordo di un'imbarcazione in difficoltà a Porticciolo di Santa Teresa. Erano le 11 circa quando la sala operativa della Capitaneria di Porto di Salerno ha ricevuto una richiesta di Mayday da parte di un'imbarcazione da di Porto di circa 18 metri di lunghezza. Gli occupanti hanno segnalato un principio di incendio a bordo che gli impediva di proseguire la navigazione. Prontamente la sala operativa ha dirottato sul punto indicato nella comunicazione radio la motovedetta destinata alla ricerca e al soccorso in mare che è giunta in zona provveduto ad accertarsi delle buone condizioni di salute delle persone a bordo e a prestare assistenza all'imbarcazione fino all'ormeggio presso il porto Masuccio Salernitano. L'attività di soccorso si è conclusa senza conseguenze negative per i diportisti ma solo con un grande spavento. Grazie. 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 Grazie.